Recent Podcast del giorno dopo per parlare della ripresa del campionato Superbike dopo la pausa estiva si è corso a Manicur questo weekend, voi invece vedrete appunto il video lunedì alle 19 dopo che ovviamente ho parlato anche della Formula 1 per il Gran Premio di Monza. Una gara di Manicur che regala dicevo tanto spettacolo prima un mondiale che sembrava indirizzato per quanto riguarda le derivate della serie si esce da Manicur a termine del weekend con un mondiale tuttora indirizzato ma con meno punti di divario tra il primo e il secondo classificato. Una gara veramente spettacolare, un weekend spettacolare va detto, si è consumato per soprattutto le derivate della serie di cui andiamo a parlare come prima parte di questo Racing Podcast. Un circuito francese che appunto rappresenta il giro di buona della stagione dove c'erano tante incognite e da vedere chi poteva spuntarla tra il duello tra i big three di questa Superbike ovvero Bautista, Lazio da Tioglu e Jonathan Ray in gara 1 succede l'irreparabile. Parliamo di sabato pomeriggio e la prima immagine iconica è questa, il cannibale Jonathan Ray che in questa pista va detto non si è trovato benissimo, era molto nervoso soprattutto in gara 2 e lo vedremo poi nel dettaglio. Commette comunque un errore che non è da Jonathan Ray, già il nord-irlandese era caduto nel libere, cade anche in gara 1 e questo moralmente è un colpo potenzialmente importante per la rincorsa al settimo titolo del mondo per Jonathan Ray. Non contento però cade anche il suo rivale perché nello stesso giro dopo la ragazza Tioglu abdica in favore di Alvaro Bautista la gara del sabato pomeriggio e questa è una caduta ancora più pesante perché Razgat Tioglu è di fatto il diretto inseguitore di Bautista nel campionato mondiale Superbike e Razgat Tioglu era di fatto in testa da solo e sappiamo come il turco si è sempre trovato bene nella pista francese di Manicur. Quindi queste due cadute al terzo giro di fatto della prima gara di fatto spianano la strada ad Alvaro Bautista per la ventiquattresima vittoria della carriera tutte quante con Ducati, tutte quante nella derivata della serie per un podio molto particolare perché appunto vince lo spagnolo per il quale suona la marcia reale. Secondo è Scott Redding con la BMW ufficiale del team di Sean Muir e terzo è Axel Bassani che conferma di essere uno dei grandi piloti emergenti di questo campionato Superbike perché ricordiamo che corre con la Ducati del team Motocourse, team ultra privato e Bassani si toglie spesso il lusso di battere tanti ufficiali e finire nelle prime 5 posizioni. Qui invece addirittura fa podio e non sui condizioni di bagnato come fu nella gara di Barcellona dell'anno scorso dove ci fu una grandiosa tripletta Ducati. Qui invece è gara vera, gara sull'asciutto, certo, Ray e Topra che sono caduti ma grande onore ad Axel Bassani per il secondo podio della carriera. Topra grazie a Dioglio invece raccoglie uno 0 e Bautista sembra allungare un vantaggio considerevole sui diretti avversari ma la domenica in realtà è il giro del riscatto del turco che vince la Super Bowl Race e il podio torna a essere quello dei Big 3 con appunto Bautista secondo e Ray terzo. Va detto che Bautista sulla carta non era il Big 3 favorito, era il terzo dei tre perché ovviamente Ducati sappiamo che storicamente sulle piste non puramente veloci e Manicur non è tra quelle, non rientra nei favoriti per la vittoria. Con questa moto e questo pacchetto comunque per il podio sì, ma non da vincere dominando, ecco diciamo così. Manicur è un circuito parecchio tecnico soprattutto per questo tipo di cilindrata. Bautista invece ha ragione di Jonathan Ray anche in volata, cosa che mi sorprende perché la Bautista in volata tendenzialmente le perde ma comunque ottima seconda posizione per limitare i danni rispetto comunque a un topra grazie a Dioglio che fa comunque il click mentale verso una doppietta perché poi dopo vincerà anche gara 2. Una gara 2 che però è condizionata da un episodio tanto discusso e l'episodio tanto discusso è questo, un errore colossale di Jonathan Ray alla curva dell'Aide che stende Alvaro Bautista che appunto è costretto al ritiro. Jonathan Ray per questa manovra dove vediamo il frame preciso dell'impatto sarà penalizzato di un long lap penalty, quindi appunto un giro lungo il tratto largo disegnato della pista di Manicur che gli farà perdere abbastanza secondi per tirarlo di fatto fuori dal podio. Bautista a caldo nei box si permetterà addirittura proprio una bandiera nera perché l'impatto effettivamente è stato frutto di un errore di Jonathan Ray per una guida troppo aggressiva. Effettivamente Jonathan Ray dà chiaro segno di nervosismo in questa azione e non solo perché qui c'entra Bautista, errore suo e rientrava dalla penalità del giro lungo, va di fatto quasi a centrare Loris Vaz che stava lottando per la top 10, segno che poi appunto l'ordine andese non era ben concentrato, è evidente probabilmente che le tante calote nel corso del weekend hanno minato la sensibilità del cannibale dal punto di vista psicologico, cannibale che deve di fatto abdicare e di conseguenza c'è spazio ancora una volta per Toprak Razgatioglu che con le due vittorie di Sprint Race e Gara 2 si appicina a 30 punti di distacco rispetto ad Alvaro Bautista. Jonathan Ray è ancora in corsa ma ha subito un colpo psicologico importantissimo, e questo Toprak evidentemente ha fatto secondo me quel click per provare a rincorrere con Alvaro Bautista che comunque ha fatto moltissimi punti in un weekend sulla carta non favorevole perché parliamo di un primo, un secondo posto e un ritiro, mentre Razgatioglu è vero che fa un dicesimo in gara 1, compice appunto la caduta che l'abbiamo visto protagonista, ma poi vince nettamente due gare e alla fine sono 302 i punti contro i 332 di Bautista per il quale ha suonato la marcia reale, per Razgatioglu invece suona ancora una volta alla marcia dell'indipendenza, ottava vittoria nella stagione per quanto riguarda Razgatioglu. È mancato Jonathan Ray che dei big three è quello che paradossalmente ha vinto di meno, ma l'abbiamo detto Jonathan Ray è mentalmente instabile, lo è stato quantomeno in questa gara di Manicur, terzo, quinto e ventiquattresimo a fronte di due pole, peraltro, apro parentesi, Jonathan Ray e Razgatioglu sulla carta dovevano essere i favoriti per vincere, appunto, tutte e tre le gare e addirittura si è verificata una cosa che nel Superbike non è mai successa in tempi moderni, ovvero Jonathan Ray e Papa Ragazzoglu hanno effettuato lo stesso tempo al millesimo della qualificazione, qualcosa veramente incredibile, ma Ray appunto doveva capitalizzare a Manicur alla pausa estiva e invece no, e quindi sono 285 i punti per il nord irlandese che pian piano si sta staccando, è vero mancano ancora 5 eventi alla fine e Ray può tornare sempre in corsa, ma oggi Jonathan Ray paradossalmente è una delle delusioni del giorno. Chi invece non delude è sicuramente Axel Bassani, perché, l'abbiamo detto più volte, podio incredibile in gara 1, podio incredibile in gara 2, perché è vero che la ZT ha fatto quello che voleva, è vero che Bottice è caduto, ma Bassani era sempre e soltanto lì e ancora una volta ha avuto ragione di tantissimi ufficiali dietro di lui, in particolare la seconda Kawasaki ufficiale, e appunto tutte le Honda, tutte le BMW e la seconda Yamaha ufficiale, veramente tanta roba per Axel Bassani che peraltro si gioca il posto, dicono i rumor, con Michael Rinaldi l'anno prossimo per la seconda Ducati ufficiale. Rinaldi però che comunque ha saputo riscattarsi la stragrande, perché è vero che finisce secondo nella gara 2, ma è altrettanto vero che poteva anche giocarsi la vittoria contro la Ducati d'Oglu. Peccato un paio di errori qui e lì nella volata finale degli ultimi giri, ma grandissimo podio per Rinaldi che non finiva nelle prime tre posizioni da Misano gara 2, quindi parliamo di fatto di inizio giugno. Certo, di base finire a podio in questo tipo di superbike è difficilissimo, perché se va tutto bene e i tre big three non sbagliano, il podio è monopolizzato. Rinaldi con la seconda Ducati ufficiale sulla carta dovrebbe essere sempre la giocanza nelle prime 4-5 posizioni, fisso, e invece ha sempre fatto un passo indietro nella maggioranza delle volte. Qui invece gara soglia di Rinaldi, tantissima roba, è evidente che l'Italia dello superbike ha magari pochi esponenti rispetto magari ad altre categorie, ma quegli esponenti sono veramente dei cavalli da top 10 con punte di podi, con anche dei mezzi adeguati. E Rinaldi e Bassani lo sono, lo era anche Andrea Locatelli, che però in questo weekend non ha fatto delle prestazioni incredibili, soltanto due settimi posti per migliori risultati. Peraltro Locatelli non sta replicando il stato di forma visto nel finale della scorsa stagione, dove praticamente era sempre a podio e nei primi 5. Locatelli invece qui ha fatto come migliore, ha fatto un secondo posto soltanto ad Assen. È comunque una superbike che tolti appunto qualche protagonista e quelli con le cadute ha dato spazio anche agli altri, perché c'è spazio anche per parlare di Scott Trading, che comunque sta trovando confidenza con questa BMW M1000RR, una BMW che è ancora difetta di cavalli e di motore in particolare. È una moto ancora in sviluppo molto difficile, ma Redding comunque riesce sempre a fare il massimo possibile in queste circostanze e di conseguenza è importantissimo, soprattutto per rimolare questa seconda posizione in gara 1. Per quanto riguarda invece gli altri italiani, ci sono i punti per Luca Bernardi, che in realtà, ripeto, non è italiano, ma è sanmarinese, ma lo colpiamo lo stesso, in quanto idola delle folle. Buonissima prestazione, secondo me, di Bernardi, che ricordiamo è un rookie, è il primo anno, non ha i mezzi degli ufficiali, ha una Ducati privata del team Barney, che comunque fa 15esimo e 13esimo delle due gare lunghe, fuori dei punti invece in gara sprint. Sono punti invece anche per Roberto Tamburini, e questo è un ottimo risultato per, oramai, esperto pilota italiano classe 91, 14 in opposizione per il pilota del team Yamaha Moto X Racing. È una superbike che, comunque, ripeto, da tanto spettacolo ha ripreso l'ostilità dopo la pausa estiva, dopo il round di Most, un round di Most che vedeva ancora un topo a Gazzettioglu, evidentemente sugli scudi, e che stava essendo, appunto, in rush per cercare di raggiungere la vetta della classifica mondiale. Attenzione al turco, perché sappiamo che quando ingrana, poi è difficile da fermarsi. Il click, secondo me, a Gazzettioglu l'ha fatto già da Misano gara sprint. Da lì poi abbiamo visto che ha fatto sempre podio, e quando ha sbagliato era, appunto, per colpa sua, a differenza di Jonathan Ray, che invece è vero che ha sbagliato anche lì per colpa sua, ma per un errore di tipo mentale. Ha detto che l'ha sbagliato una volta sola, Ray invece sempre è stato battuto, anche a ripetizioni in pista, dai diretti avversari, e questo ha inciso, e non poco, e potrebbe non decidere, e non poco, ovviamente sulla mente e la psicologia del nord irlandese, che sembra ancora una volta lì lì per abdicare al titolo del mondo. Ma manca ancora tanto, 5 eventi totali alla fine, 3 trasferte europee, 15 gare, tanta, tanta Superbatch ancora ci attende, e il prossimo round sarà importante, e sarà quello di Barcellona. Passiamo adesso alle altre categorie, perché ha corso anche la Super Sport 600, che vede anche una volta la conferma davanti di Dominic Gerter, dopo il tanto controverso round di Most, dove è stato squalificato al termine di gara 1 per comportamento antisportivo, dopo essere stato accusato di aver simulato un'infortunio dopo la caduta di gara 1, sembrava la rush, il momento di Lorenzo Baltasarri, che infatti in parte si conferma con la vittoria di gara 1, ma il Gerter vince la gara 2 davanti a Jules Clusel, pilota grande, esperto di questa categoria, un pilota che veramente ha dimostrato tanto talento negli anni d'oro, ma che si ripeterà nel termine di questa stagione per via di tantissimi infortuni, patiti lungo su la carriera e anche quest'anno si è visto con dei round saltati. Grandissima seconda posizione per Clusel e terzo è Nicolo Bullega, che è vero, è il primo degli altri, perché anche qui si sta delineando un mondiale con due piloti soprattutto e sono appunto Gerter e Valdassarri con Bullega, il primo degli altri. Valdassarri ricordiamo che corre con la Ducati, ufficiale del team Aruba. Valdassarri comunque ha avuto modo di infilare la terza vittoria consecutiva in Super Sport, quarto della carriera in gara 1 con una percezione comunque di tutto rispetto, battendo i diretti avversari, in particolare il Gerter, che non sembrava suo agio in gara 1 con il sistema della moto, infatti abbiamo visto che non era nelle primissime posizioni, ha dovuto fare una gara di conserva e ha limitato i danni, se così si può dire. Valdassarri appunto era addirittura in testa a un certo punto della gara in questo virtuale mondiale Super Sport. Seconda posizione invece per Glenn Van Stralen, pilota olandese al secondo posto in questa gara di Magnicure, al secondo posto della carriera dopo la gara di casa di Assen e terzo appunto è Gerter, che comunque con la vittoria di gara 2 va a 286 punti per quanto riguarda il mondiale Super Sport che è come la Super Bike a 5 gare alla fine. Il mondiale che invece è quasi agli sgoccioli, è quello della Super Sport 300 che appunto ha visto a Magnicure il sesto di 8 round e anche come la Super Bike concluderà nella trasferta prima delle trasferte extraeuropee con Barcellone e Portimao qui due vittorie in due gara differenti la prima è di Matteo Vannucci seconda vittoria in carriera per il pilota del team AG Motorsport Italia Yamaha dopo quella di Misano e poi vince Victor Steman che qui in Magnicure gara 2 ha dimostrato di avere un passo clamoroso nettamente superiori agli altri ha netto che comunque la gara sia conclusa in volata ma Steman ha dovuto rimontare dopo una penalizzazione in gara è comunque un mondiale molto interessante perché Steman con questa vittoria si isa al terzo posto del mondiale assoluto rimangono davanti però Marc Garcia e Alvaro Diasi due spagnoli che si continueranno a lottare insieme a Steman il titolo del mondo e appunto mancano due gare e quattro eventi alla fine si corre il 24 e 25 settembre a Barcellona il 8 e 9 ottobre a Portimao stessi round della Super Bike dunque anche qui ci sarà il nuovo Racing Podcast in concomitanza appunto di queste gare se prima ovviamente non c'è la Formula 1 come è capitato in questo weekend con il Gran Premio di Monza ricordiamo che in questo canale Formula 1 Super Bike e MotoGP sono trattate in questo ordine di priorità appunto per quanto riguarda il Racing Podcast e di conseguenza adesso possiamo rimangare al prossimo appuntamento motoristico sul mio canale e parliamo appunto del Gran Premio della MotoGP che sarà sempre in Spagna ma ad Aragon il prossimo weekend sarà soltanto dedicato alle derivate dei prototipi con la gara spagnola e saluto da parte di Matthew Torgaard ci vediamo al prossimo video Ciao